A dire la verità non è molto chiaro come ci siamo arrivati perché il 18 di dicembre c'è stata un'assemblea degli iscritti a questo partito. L'assemblea all'unanimità ha decretato che il candidato del partito era Mariano Catrini, tant'è che non c'era stato proprio nessun contrasto. Era talmente finita bene quell'assemblea degli iscritti che alla fine abbiamo davvero festeggiato facendoci gli auguri col panettone, con lo spumante. Dopodiché è successo che improvvisamente le cose si sono modificate, ci hanno detto che ci sarebbero state delle primarie. Il sindaco uscente ha chiesto al dottor Delbarba come mai dovevano tenersi delle primarie, quali erano le cose che venivano contestate a questa amministrazione uscente. Noi oggi, al di là del fatto che c'è un volantino che dice che si vuole far volare questa città, non abbiamo capito che cosa è stato contestato all'amministrazione Catrini uscente. L'amministrazione uscente ha portato avanti il programma che il PT ha votato cinque anni fa e nessuno dei componenti del Partito Democratico nel corso di questi cinque anni ha mai preso le distanze dalle cose che venivano fatte fino a questo momento. Dire che sono perplessa, dire che un 8% di persone hanno firmato una candidatura di una persona iscritta a questo partito che potrà essere o sarà o una potenzialità, io non metto in dubbio assolutamente niente rispetto ai soggetti, io metto in dubbio le modalità con cui le cose si sono svolte, non sono state chiare, non c'è stato chiarito, credo che il sindaco, se qualcuno glielo chiederà lo potrà anche dire, nessuno ha mai parlato con il sindaco di qualcosa che doveva essere fatto e non è stato fatto. Col sindaco qualcuno ha parlato di che cosa deve fare uno e che cosa deve fare un altro, questo credo di sì e lo potrà confermare anche Mariano Catrini.